Stefano Mancinelli inizia la stagione dell'Armani Jeans, tutti dicono che questo è un buono per iniziare lo scoletto, tutti possono fare scongiure, sentite la pressione? Ma pressione no, siamo molto carichi per iniziare questa stagione sicuramente, perché siamo un gruppo nuovo, abbiamo un talento, una squadra, quindi sono carico, una pressione no, ma sono molto carichi. Cosa avete in più rispetto alla scorsa, una giovane per cui dovete andare lo scoletto? Adesso non posso ancora dire, ma siamo una squadra costruita a piedi soprattutto e tutti quanti i ragazzi tra le scuole, ma non nel senso che in campo non è bravi, siamo cantini in campo, sono sempre delle persone che comunque anche fuori sanno stare insieme e questo non è più importante. Siene a parte, quale sarà la squadra più pericolosa? Come sarà, non voglio anche pensare alla squadra, agli altri squadri, pensiamo solo a Milano e siamo noi, andiamo solo nelle scuole. Ultima cosa, un voto che faresti in cambio a dello scuole? Un voto... Non lo so, saltare per 5 anni di via all'estate, credo vincere uno scuole, sì. Sarebbe 5 anni di vacanza? Sì, vincere uno scuole. Ah, ultimissima cosa? Vincere uno scuole. Vincere uno scuole. Vincere uno scuole. L'ultimissima cosa, più facile che vincere uno scuole? Dove l'Impio a Milano o il Milan di cui sei caposo? Spero l'Impio a Milano. No dai, ma che dire, però dai, spero l'Impio a Milano. Ok, grazie molto.